L'ultima sera trascorsa coi suoi, prima di andare a morire per noi, e gli giurò che neppure la morte ora ci avrebbe divisi da lui. Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi, che ci pregava di amare così, con l'umiltà di chi vuole servire nella memoria del gesto di lui, e noi a chiederci tristi perché, ci ripeteva sereno più ormai, e gli doveva lasciarsi tradire e poi andare a morire da solo. Ora ti chiedo in mente, mio Dio, di perdonare il mio cuore insicuro, Dammi la forza di accogliere ancora la Tua parola e il tuo gesto d'amore. Dopo aver detto nell'ultimo addio di non avere paura per lui, fu trascinato davanti al giudizio fino alla morte nel nome di Dio, e lo vedemmo lontani da lui. Dire per l'ultima volta, mio Dio, poi nel silenzio ci siamo lasciati, e da me vanno paura per noi. E noi a chiederci tristi perché, se era lasciato morire così, senza colpire la mano dell'uomo che aveva avuto paura di Dio, quando poi venne di nuovo tra noi, in quel momento soltanto con Lui, noi comprendemmo che forza di Dio è solo quella che dona la vita.